noi andiamo intanto ne approfittiamo andiamo a vedere il dogo cosa combina qua grande marino sempre presente mitico marino se qua anche te per l'evento tra un po vedrai manca poco che vedremo partire il dogo se quindi preparati a fare il tifo per l'evento purtroppo nomina mancano 30 secondi per vedere per iniziare a vedere i primi movimenti ma ragazzi purtroppo voleva anche invitare qualcuno di voi ma non mi ha dato non mi ha dato nessuna lista amici quale for night ovviamente è buggato questo ragazze l'evento della season 10 vedremo il dogo se andare a combattere contro il mostro dell'island tra poco partirà questo vedete che siamo già stati forniti di jetpack e andiamo a vedere un po il dogo se appartiene infatti sentite che si stanno si sta già spiegando danger danger attenzione adesso arriverà il mostro maledizione chi partirà per primo il dogo cos'è aiuto stai distruggendo tutto kato spessaci te io le mostre asci regalo ragazzi ma aiuto finalmente vediamo il mostro che è uscito da che si porta dietro un pezzo di borgo vichingo lì maledizione ecco dove c'è ancora dietro grande cactus siamo salvi ragazzi ma io proprio lì davanti a sto roba qua mi devo trovare ragazzi davanti lì il borgo borgo sta partendo l'attacco il mostro finalmente non si può sparare è il mostro vera mica ma io sarò mica sulla linea di cose del mostro eh perchè ho bisogno di una posizione sfigata morco zio vai lontano no che muoio che muoio deve morire il mostro no loot lake io proprio qua davanti mi dovevo mettere no no cattus no non c'è le armi ragazzi muori si no cattus è morto il mostro dove è andato stanno tutti volando stanno tutti volando dove è finito il cattus uh dogus grande dogus grande no aiuto muori 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 oh no 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 mi ha portato via un braccio dogus dai almeno è morto il cattus no c'è no no uuu 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 ha preso la la sfera di navagia da borgo allegro ragazzi si no da loot lake uuu ha ucciso il nemico è diventato su è incavolatissimo uuu boh si prende la sfera grande paolo bentley mi dico si ragazzi su uuu escalibur a pinnacoli c'era escalibur o qualcosa di simile uuu uuu oh finalmente ha ucciso il mostro grande uuu quindi bella uuu il cattus ha vinto ragazzi si andiamo a vedere cosa ha lasciato qua adesso ci sarà mica sta roba qua in mezzo alla mappa eh uuu siamo pazzi no questa spada qua enorme quella è la statua di ragazza è la statua di coso è la statua di che c'era pinnacoli niente finito l'evento ma non è stato distrutto niente perchè bene ha trionfato bello mi sembra un po' un bronzo eh ragazzi sì sì ho visto che roba ma non riesco a comprendere bene 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 ha finito l'evento però non è stanno già pensando a vabbè niente quindi cosa è successo in questo in questo evento perché il cattus ha vinto il dogus o viceversa non è successo niente sulla mappa vabbè chissà scopriremo cioè l'altro evento almeno era stata modificata la mappa questo evento qua chi lo sa non è proprio successo nulla in più volevo invitare anche qualcuno di voi non mi ha fatto invitare nessuno non è che se no ho avuto l'accesso late però vediamo l'idea grande marino andiamo a vincere e e e e e e e e e Grazie a tutti. Va, vaffanbaglio, va. È arrivato il furbone, maledizione. Ah, perdo. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.